Il prossimo 29 novembre alle ore 17.30 presso Arezzo Fiere Congressi nel contesto del Forum Risk Management si terrà la quarta edizione del premio Esculapio, riconoscimento che celebra l'eccellenza e l'umanità nel settore sanitario. Sì, è un premio alla sua quarta edizione, è un premio che ha tanti soggetti che lo hanno voluto, ma in particolare l'associazione Tecla, è un premio che va a dell'eccellenza in ambito medico, in ambito più propriamente sanitario. Ci teniamo particolarmente sia perché è un momento particolare, vediamo quanto i nostri medici, i nostri infermieri, il personale sono sottoposti anche a delle prove dure per la violenza che in alcuni casi viene adoperata nei loro confronti, che è una cosa inaccettabile, intollerabile, che non è possibile possa continuare e quindi vogliamo sensibilizzare le persone anche a questo. L'altro aspetto è che quest'anno, per la prima volta da un punto di vista logistico, il premio entra all'interno del Forum Risk perché io penso, noi pensiamo insieme a Vasco Giannotti, questo lo abbiamo condiviso, che non è soltanto un luogo di grande scienza nei confronti della sanità e di grandi progetti rispetto alla sanità del domani, ma il Forum Risk si apre anche a temi più popolari e anche a temi più morali e quello di portare onore ai nostri medici sicuramente lo è. Si apre in un anno in cui il concetto di partecipazione, il concetto di sanità popolare trova tante espressioni, dalla sanità digitale che deve essere diffusa e divulgata fino alla scelta dell'amministrazione comunale mia e del sindaco Ghinelli di fare quest'anno gli stati generali della sanità retina in maniera del tutto nuova attraverso un sondaggio, quindi di renderli esattamente popolari proprio perché le persone possano dire la loro. Quindi gli stati generali escono, tra virgolette, dal Forum perché si svolgono online per quest'anno, ma entra dentro il Forum il premio Scolaccio. Infatti io devo ringraziare Vasco Giannotti e la Giorgia Archiano che ci hanno dato questa possibilità, che è molto importante perché sottolinea l'integrazione che c'è tra la sicurezza, l'umanità nella gestione del settore sanitario e le competenze tecniche. Per cui è un momento veramente delicato e importante che noi di Tecnici teniamo veramente tanto per favorire e migliorare il diritto alla salute. Noi crediamo e lavoriamo in Africa perché questo diritto alla salute sia possibile alle persone svantaggiate e bisognose e poter parlare di cooperazione, integrarsi con queste nuove conoscenze migliora sicuramente la salute futura di tutti e include parecchie più persone.